Da quanto tempo facciamo video haul? Se aspettate che compri qualcosa per me stiamo freschi, però vi faccio vedere qualcosa che invece ho comprato. C'è un motivo per cui il mio caffè non è arrivato? È morta per caso? Allora, innanzitutto questo è un video che non so se uscirà prima o dopo la pesata. Vedo che quel tipo di video vi sta piacendo. Non sapete quanto voi state aiutandomi nel senso sia quando vado in premiere che vi presento il video della pesata in cucina, sia su Instagram. Mi fate sempre i complimenti perché ce la sto facendo a fare la dieta perché è ritornata la fame di prima. Non la fame di prima perché ovviamente c'è lo stomaco ridotto, però era abituata a mangiare un sacco di dolci e toglierli proprio tutti, tutto di botto, in due settimane. Questa è la terza settimana di dieta, è un sacrificio di Dio. Però appunto il video della pesata non uscita lunedì come mi sembra anche aver fatto la settimana scorsa, ma la pesata la faccio in martedì perché ha spostato di un giorno Damon e quindi faccio anche io il martedì con lui. Quindi oggi non c'è la pesata ma solamente perché la voglio fare contemporaneamente con Damon. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato a Brian. Oggi ho speso, mi sembra, 55 euro. Oh, 45, 55. I pezzi che mi ricorderò, il prezzo, magari stanno segnati vicino. Sì, questo sta segnato vicino. Io ve li dirò. Il resto io i video haul li faccio quasi tanto a verlo perché poi non mi ricordo i prezzi. Allora, questo l'ho pagato 5 euro. Eccoci al prezzo e quindi è il trapuntino estivo per Brian, per il letto, perché avevo il mio ma lui aveva ancora la trapunta un po' più pesante. Che non è proprio pesante pesante, diciamo che è autunnale, va? Quella di Spider-Man. Però mi rendo conto che lui all'inizio sente freddo, poi si scopre, poi a un certo punto al mattino presto fa freschetto e lui è freddo praticamente. Mi sveglio proprio col pensiero, vado a vedere ed è freddo. Tanto manca poco da quando diventa freddo a quando si sveglia perché Brian si sveglia alle 6.30-7 del mattino. Quindi questo magari si sveglia più tardi, forse per il freddo, no, non credo. Comunque mi ho comprato il trapuntino estivo e questo magari mi voglio prendere un altro senza portarmelo avanti e indietro per quelle due settimane che farà a barcaturo. Perché poi Brian, come vi ho detto, le altre due settimane di ferie dall'abba le farà, cioè no, le uniche due di ferie dall'abba perché praticamente le prime due a barcaturo farà all'abba. Però verrà l'altra terapista che abita vicino perché praticamente l'altra terapista non sta venendo perché dove abita lei c'era il pericolo covid ancora. Invece adesso è rientrato anche lì e quindi può tornare anche lei. Quindi le prime due settimane di agosto starà a barcaturo. Oltre a fare le ferie lì e andare al mare farà due ore di terapie quattro volte a settimana. Comunque, quindi sarà anche impegnato in questo senso anche perché lui le terapie le fa anche giù alla spiaggia. Le due settimane che stiamo a barcaturo praticamente non mi voglio portare questo appresso. Le prenderò un altro, di un'altra fantasia, che lo porterò appunto lì e lo lascio lì. Due pigiamini, mi sembra questi 5 euro ognuno, però non c'è il prezzo. Vediamo se c'è lo scontrino. Ragazzi, non erro lo scontrino, sta nella borsa, però la borsa sta fuori. Sì, ma mi sembra 5 euro ognuno, ve le faccio vedere. Allora, io considerate che Brian ha 5 anni e mezzo e gli compro 6 anni. Non per, insomma, lui non è grasso, però è molto alto. Quindi se gli comprassi 5 anni gli andrebbe bassissimo. Insomma, la maglietta, praticamente sono i pappatroll. Una con la fantasia così, il pantaloncino sotto, è grigio. E l'altro, questo me lo metto tutto fuori, lo faccio tutto dalle buste perché così li lavo. Queste cose da mettere addosso li lavo a mano. Invece le cose, il trapuntino lo devo mettere in lavatrice. Tanto c'ho l'ascivatrice. Io l'asciugo e domani sera già lo può usare. Adoro. Allora, l'altro completino sotto sempre grigio e sopra è così. C'è il personaggino, non i cani. Guardate come è carino. Poi, vabbè, volevo avvisare a Ginevra che il completino che ha comprato a Brian 8 mesi fa, che non gli andava, adesso gli va in amore perché era molto grande. E se non ne erano ieri, non ne erano ieri, no, non mi ricordo quando gli ho messo, due o tre giorni fa comunque l'avevo usato per la prima volta. Calzini. Questi qui venivano 1,50 ognuno della Pompea. Sembra, sì, 1,50 ognuno. Numero 30. Uno, due, sì, è 30, sta scritto qua. Due e tre. Sì, così. Invece questi qua, tre paia tipo fantasmini, non proprio fantasmini, però solo corti. tre euro, tre paia e gliene ho presi, se non erro, dove sta l'altro? Ah, ecco lì. Gliene ho presi due. Però io devo comprare altri calzini, altre mutande, mutande. La misura sua non c'era, quindi. Poi, mettiamo questo di qua. Ho comprato, ho comprato, sì, ho comprato praticamente. Due completini, questi 10 euro ognuno. Due completini, Piergarden, ecco qua. Questo sopra, questo sotto, poi l'altro completino, tutto blu sotto. Ragazzi, sono calzoncini, però che arrivano oltre il ginocchio. Perché, allora, praticamente nel centro dove fa psicomotricità, c'è l'aria condizionata. E l'altro giorno, Brian, con i pantaloncini corti, perché fuori c'erano 35 gradi, non sto scherzando, 35 gradi. Se non erro, giovedì scorso è capitato. C'erano 35 gradi, però fuori faceva caldo, dentro, con l'aria condizionata. Poi mi è uscito, dopo 40 minuti di terapia, con le cosce gelate. Quindi, ci sto prendendo i pantaloni, tipo bermuda. E questo è il pezzo di sopra. Quindi, col giallo e col rosso. Ragazzi, ho comprato solo questo. Ve l'ho detto, è un mini video haul. Vabbè, è durato 7 minuti. Però, appunto, dove sono andata a comprare queste cose? Non hanno un granchì. Quindi, pensate che questo negozio, per lo più, vende intimo. Quindi, già è pigiami ed intimo. Già è tantissimo che ho trovato questi due completini. Io a Brian li uso tantissimo. Capita che esce due volte al giorno. Io a Brian lo cambio due volte. Quando suda, non è che quello che si mette al mattino, poi se lo rimette a pomeriggio. Quindi, praticamente, questi completini per me sono una santa cosa. Lavo e asciugo, lavo e asciugo. Mi sta sempre bello fresco. Adesso io devo comprare le mutandine. Vorrei andare da Chiabi. Voi sapete che io ho una passione per Chiabi. Però, qui a Napoli, io non ce l'ho. Se sapete qualche buchetto dove c'è Chiabi a Napoli, ditemelo. Vorrei vedere Chiabi e ce l'ho a Caserta. E vorrei dare anche un'occhiata. L'OBS, se l'ho visto, non mi è piaciuto niente. Non l'ho visto quando sono andata a 100 commerciali la settimana scorsa. Però, vorrei dare un'occhiata a quel negozio, come si chiama. E c'è Dem e l'altro. Berska. Era Berska dove... Comunque sul sito ho visto, sì, se non ero Berska. Aveva bellissime cose. Poi la roba di Berska, per quanto riguarda i bambini, hanno un'ottima qualità. Per quanto riguarda gli adulti, io non trovo cose, insomma, di una qualità eccelsa. Ma per i bambini, io ho preso delle scarpe, molte volte, scarpe per Brian da Berska, le ho buttate nuove. Buttate che poi io le porto sempre alla Caritas della mia vecchia chiesa, della mia vecchia comunità. Raga, io le cose, quando le compro da Berska, le tolgo sempre nuove. Nuove proprio. Cosa che non mi capita nemmeno quando compro le cose proprio di marca. Che poi non le compro io, ma lo sapete, le cose di marca, spendere un sacco di soldi, lo fa il padre. Come si veste per lui, veste Brian. Comunque, vi saluto. Vi do appuntamento alla pesata di domani. Questo non andrà in premiere perché è un video tranquillo per gli acquisti. A domani, io spero di darvi un ottimo risultato anche domani. Dovevo considerarvi, poi magari è così. Io mi aspetto di essere calata a altro peso perché mi si sono tolte le mestruazioni. Invece vado a vedere, peso di più. Volevo ricordarvi, l'ultima pesata era 82,2. Quindi dovrei almeno essere 80. Poi se sono scesa sotto la ottantina, lo spumantino alla prossima live, vi giuro. No, vabbè, se non è la prossima live, comunque appena scelterò sotto. Scusatemi, ma Faith, mi stava chiamando. Faith, non mi devi chiamare quando registro. Tu dici, mettimi le modalità aerea. Ti metto io su un aereo. Comunque, vi saluto. Vi stavo dicendo della pesata. Comunque, appena scenderò sotto la ottantina, vi giuro che sta per uno spumantino light. C'è light? Altrimenti prenderò i 5 kg che ho perso. Comunque, 10. No, 5 kg per scedere sotto la ottantina. Però io voglio diventare 75 kg. Ho fatto confusione. Un bacio al prossimo video, cioè domani. Forse, se lo faccio uscire stasera. Non lo so, ciao.